Buongiorno, siamo in Via del Carso dove si è verificata questa occupazione abusiva di una villetta con Maria Federico che è la coordinatrice di Milano per Forza Nuova e la responsabile di comunicazioni Lombardia. Abbiamo saputo la notizia di questa casa, di questa ulteriore casa che è stata occupata da una famiglia Roma che si giustificano dell'azione commessa perché non hanno una soluzione, un'alternativa di abitazione e si dicono anche disposti a pagare un affitto alla signora. La signora che momentaneamente noi sappiamo essere ricoverata in ospedale e che quindi non è impossibilitata a poter intervenire personalmente. Le forze dell'ordine sono intervenute, a meno quanto noi sappiamo, ma avendo la famiglia dei minori all'interno purtroppo la legge italiana che salvaguarda i diritti di chiunque di fuori, di quelli dei cittadini italiani si trova con le mani legate. Noi riteniamo che questa sia assolutamente un'azione deprorevole, quella di un'appropriazione di un'abitazione pagata con sacrifici e con tutti gli annessi di tasse pagate a quello Stato italiano che in questo momento dovrebbe garantire che la casa sia liberata. Noi di Forza Nuova faremo qui in presidio martedì mattina perché è giusto che i giornalisti denunciano la situazione ma è anche giusto che le autorità che sono preposte, che vanno dagli assistenti sociali ai carabinieri o allo stesso comune o a qualsiasi ente sia incaricato di dare una soluzione al più presto possibile a questo degrado sociale e culturale che stiamo affrontando ne prendano atto e intervengono al più presto. Non possiamo ridurci ad avere paura di uscire da casa semplicemente per fare la spesa o delle commissioni o in casi come quello della signora che sta già affrontando un suo periodo negativo essendo appunto ricoverata in ospedale ad avere la paura di ritornare a casa e trovare la casa occupata e soprattutto il video poi lo farà vedere tutti gli oggetti dell'appartamento e quindi anche i ricordi di una vita di sacrifici, momenti belli, momenti brutti buttati in un giardino assolutamente noi questo non lo possiamo permettere e siamo intenzionati a portare avanti questa lotta fino a quando le autorità prenderanno atto che è giusto ormai ed è necessario intervenire su questa situazione che sta dilagando in tutta Italia soprattutto al nord e soprattutto in altri tipo Roma che sappiamo benissimo Gualtieri ha emesso un'ordinanza molto semplificativa appunto per chi occupa le abitazioni noi di Forza Nuova non ci stiamo a questo tipo di approccio grazie grazie